Forse non è stata la prima impresa assoluta di una carriera irripetibile, ma quella del 21 luglio 1972 è stata l'impresa che lo ha fatto conoscere al mondo. In quel caldo venerdì estivo barlettano veniva inaugurata la nuova fiammante pista in taplex dello stadio comunale di Via Vittorio Veneto, intitolato più tardi al campione italiano di marcia Cosimo Puttini. La giornata già speciale per questo motivo venne impreziosita da un ragazzo di nome Pietro Mennea, in rampa di lancio per diventare la freccia del sud. Era un venerdì 21 luglio 1972. In quel giorno l'Avis Barletta e in particolare il professor Ruggero Lattanzio si inventò una giornata che prevedeva, come si svolse, una conferenza sul mondo dello sport al castello, presieduta dal direttore del Corriere dello Sport Mario Gismondi, che aveva lasciato la gazzetta del mezzogiorno, e dove intervennero pezzi grossi del tempo, fra cui Primo Nebiolo, il presidente della FIDAL. E nel pomeriggio il primo meeting città di Barletta, sulla pista di taplex, alla presenza di migliaia e migliaia di persone, dove il ventenne Pietro Mennea cominciò a farsi notare alle cronache mondiali, non nazionali. Perché su quella pista, ormai distrutta, Pietro conseguì ben due record. Il primo sui 150 metri, una distanza inusitata, ma il secondo record, nella staffetta altrettanto mitica, composta da Pasqualino Abeti, Luigi Benedetti, Franco Ossola e Pietro Mennea, come frazionista dell'ultima parte, col tempo di 1,21 e 5. Il bello e l'interessante di questa storia è che nessuno seppe mai, se non l'indomani, che avevano conseguito il record. 50 anni fa veniva scritta la storia di Barletta e dell'atletica. Oggi il Tutigli è pronto a riaprire le porte dopo 7 anni di chiusura al pubblico ed è pronto a farlo sempre nel segno di Pietro Mennea. Su questa importante storia, su questi importanti vasi abbiamo costruito il gruppo sportivo Avis Barletta, squadra che si giocherà la Serie A perché siamo in Serie B a settembre, ma insieme a questa grande squadra iniziamo a pensare ai grandi eventi. Grandi eventi che hanno avuto inizio con il programma 1972, un anno di atletica, al Teatro Curci, i dialoghi dell'atletica, il meraviglioso record italiano di Roberta Bruni al Castello, al Galà Internazionale di Salto Collasta e ora arriviamo al Mennea Day, al nostro caro Mennea Day. Finalmente al Puttilli, in una pista intitolata proprio a Pietro, è dove faremo la sua gara. Saranno le principali eventi o solo i 200 metri, con una batteria, una serie finale, con atleti importanti di livello internazionale.